Soprattutto noi festeggiamo questa sera l'amore per la musica, l'amore per gli scambi culturali e musicali e ce ne riempiamo alla recinta. E quindi, perché? Perché tutto questo? Perché abbiamo avuto, come voi sapete, la gioia di andare a visitare uno splendido paese che si chiama Spine Power e noi abbiamo conosciuto alcuni amici, questa sera le abbiamo portato un po' 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, let's play! Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi. Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? Voi lo conoscete già, alcuni di voi lo devono sconoscare, no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.